Giorgia Boncuore è studentessa universitaria tra gli organizzatori del Movimento delle Sardine che tra l'altro avranno la prima manifestazione ufficiale in Abruzzo il 7 dicembre a Pescara. Ci spiega che cos'è il movimento che nasce spontaneamente praticamente da Facebook. Allora, il Movimento delle Sardine è appunto un movimento del tutto spontaneo che è nato proprio in occasione della campagna elettorale in Emilia Romagna, a Bologna. Proprio questa è stata la cosa che evidentemente ha colpito soprattutto noi giovani ad aderire. Proprio la sua spontaneità, la libertà proprio di manifestare degli ideali che effettivamente condividiamo che sono l'ideale dell'antirazzismo, dell'antiviolenza, della politica chiara e che fa partecipare soprattutto noi giovani che siamo un poco, diciamo, quelli più colpiti dalla crisi sia economica ma soprattutto culturale. E quindi ci proponiamo soprattutto essere come un movimento culturale, a partitico ma politico, che quindi vuole inserirsi all'interno della politica, vuole dialogare con la politica. Politico perché i valori di riferimento da quello che abbiamo visto, abbiamo ascoltato, è comunque la sinistra. Certo, esattamente. Sono valori di sinistra, come appunto ho detto, valori come la non violenza e la comunicazione che sia una comunicazione, un dialogo che si apre appunto con la politica senza forma di razzismo e di altra violenza. Netta contrapposizione, voi vi mettete contro certi, insomma, questo pensiero, voi giudicate razzista di destra, anche con la Lega. Esattamente. Diciamo che è nato, proprio perché ho detto che è nato a Bologna e in occasione della campagna elettorale, effettivamente è stato visto come un movimento antisalviniano. Ecco, sì, lo è in parte perché proprio Salvini, in un certo senso, porta avanti questi ideali, non tanto gli ideali, quanto il modo con cui porta avanti i suoi punti, diciamo, che effettivamente hanno fatto un po' scatenare la violenza, soprattutto nei social, che rendono possibile alle persone comunicare in maniera non del tutto adeguata, quindi in maniera violenta. Perché sardine? Vi chiamate sardine. Da Ciamaraini oggi, tra l'altro, intervenendo qui all'Università di Teramo, in un convegno, l'inaugurazione della Scuola della Legalità, ha parlato delle sardine come un simbolo che è l'unico pesce non di allevamento. Quindi vi ha dato anche questa sorta di metafora. Infatti questa metafora è molto bella perché marca ancora di più l'intento di questo movimento giovanile, che è quello di non essere, diciamo, di non essere strumentalizzati, che è un po' quello che hanno voluto fare tutti. Anche a certa sinistra? Sì, sì, sì. Un po' tutti i partiti che in un certo senso hanno visto questo, soprattutto quelli di sinistra, hanno visto anche un'occasione per strumentalizzare questo movimento e portare a sé, diciamo, l'elettorato. In realtà non è così. Cioè ci sono ragazzi e persone in generale, anche molti adulti, che votano partiti diversi tra di loro. Un movimento spontaneo. Esatto. L'ideale unico è quello proprio della non violenza e della libertà. Senti, quanto siete vicini anche al movimento ambientalista di Greta? Indubbiamente tanto? Sì, certamente. Esatto. Siamo abbastanza vicini perché comunque sono degli ideali che fanno parte comunque di quel pool, diciamo, di ideali che comprendono anche quelli ambientali. Vi state preparando per il 7 dicembre, c'è stato anche un incontro ad Ascoli Piceno molto partecipato. Riempite, dobbiamo dirlo, le piazze in maniera incredibile. Invece tutto passa per il passaparola tramite i social network. Esattamente. Infatti io sono una referente di Teramo, contattata via Facebook, via social, che mi occupo semplicemente di raccogliere i teramani per partecipare più uniti alla manifestazione. E ovviamente c'è un direttivo regionale. Sì, c'è un direttivo regionale. E diciamo che i capisaldi in Abruzzo sono Debora Ciani e Gennaro Spinelli. Che sono i due referenti regionali. Abbiamo detto che vi preparate per il 7 dicembre, però dopo dove andrà questo movimento? Non vi siete ancora posti, diciamo, il problema? Diciamo che il dopo è ancora un po' da vedere. Diciamo che è iniziato da poco. Diciamo che questo intento iniziale è quello di riempire le piazze, ma perché? Per riempirle soltanto, no? Per richiamare la gente che vuole partecipare alla politica, che vuole finalmente avere un dialogo con la politica e non rimanere... Un impegno civile. Sì, esatto, esattamente. Un po' di interesse, nuovamente è rinato l'interesse, soprattutto da parte dei giovani, di partecipare, che un po' ci siamo isolati. Ecco, è questo l'intento culturale. E Facebook non è solo haters, cose brutte. Esattamente, perché purtroppo ormai i social, soprattutto Facebook, sono diventati fondamentalmente un campo di battaglia. In realtà non devono essere così, sono uno strumento bellissimo che appunto serve anche a questo, a unire delle persone per combattere degli ideali.